Convincere le famiglie Sinti e Rom a lasciare i quattro campi nomadi cittadini seguendo un percorso di inclusione e di accompagnamento. È l'obiettivo che il Comune di Prato affida a un operatore economico esterno con un bando che ha una base d'asta di oltre 72 mila euro più IVA per 18 mesi di lavoro di cui 61 mila euro per la mano d'opera. Gara che è in corso dopo una manifestazione di interesse a cui hanno aderito in quattro. Complessivamente i campi sono quattro, via Le Manzoni, via Pollative, via Le Marconi e via Traversa per le Calvane per un totale di 270 persone circa. In 18 mesi è verosimile che solo i primi due dove avevano rispettivamente 25-50 persone saranno risolti e chiusi. Il banco di prova per la buona riuscita del progetto sarà il campo di via Le Manzoni che ha la priorità sugli altri perché l'area deve essere lasciata libera il prima possibile per la realizzazione della terza corsia della 11 senza considerare poi motivi di sicurezza dato che è attraversata da un tubo del gas Snam. L'operatore che sarà scelto utilizzando le risorse a disposizione dovrà prendere contatto con gli occupanti per orientarli e accompagnarli in sistemazioni alloggiative, percorsi di ricerca lavorativa, occasioni formative, sostegno al reddito e altre misure come il bonus di uscita messo a disposizione dal Comune di Prato e dalla Società della Salute. Misure che andranno precisate nel regolamento che è in fase di revisione dato che risale a oltre 20 anni fa. In sostanza l'amministrazione comunale si vuole dotare di figure professionali che seguono la quotidianità di chi vive nei campi di sosta per affiancare gli uffici nel percorso di reinserimento sociale che l'appartenenza a questi spazi rende molto più complicato perché per buona parte della popolazione viene associata a qualcosa di negativo. Dunque si abbandona via Manzoni per far spazio alla terza corsia, certo, ma anche per lasciarsi alle spalle una condizione di marginalità sociale.